Musica Trattate quasi 8.000 pratiche liquidate 2.300 per un controvalore di quasi 28 milioni di euro a fare il punto della situazione sui rimborsi forfettari all'80% per gli obbligazionisti subordinati azzerati delle vecchie bancamarche, banca Etrudia, Carife, Carichieti e Salvatore Paternà, vice direttore generale del Fondo Interbancario. Dal nostro punto di vista, spiega Paternà, stiamo andando bene, certo per chi da esterno attende il rimborso qualche giorno di ritardo rispetto ai 60 giorni indicati dalla legge, ormai si registra. Il problema è che la quantificazione iniziale delle richieste, una stima di circa 6.500 risparmiatori che rispondevano ai requisiti per richiedere l'indennizzo forfettario, risulta assolutamente sottostimata rispetto alle pratiche effettive che tendono a raddoppiare. Il numero delle cointestazioni e degli acquisti multipli hanno preso una consistenza in attesa. Coloro che avranno diritto a sicura Paternà saranno rimborsati fino all'ultimo centesimo previsto dalla legge ma a questo punto la macchina sta lavorando alla massima potenzialità ma fatichiamo a rispettare i 60 giorni. Ogni settimana vengono liquidate tra le 200 e le 250 pratiche che si possono portare a un massimo di 400 ma si tratterebbe comunque di un ritmo che non consentirebbe di restare entro i termini di legge. Il fondo ha comunque segnalato il problema al Ministero dell'Economia a inizio dicembre conclude Paternà chiedendo di intervenire sul piano normativo con un allungamento dei tempi fissati per la liquidazione delle pratiche almeno raddoppiandole.